anche i colleghi senatori, peraltro saluto in particolare i colleghi senatori della PD che hanno chiesto questa comunicazione del Ministro e infatti giustamente bastava leggere comunicazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, l'ordine del giorno della seduta delle commissioni congiunte decima del Senato della Repubblica e undicesima della Camera dei Deputati reca le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura e più in generale agli incidenti sul lavoro nonché alle iniziative in materia di contrasto al lavoro irregolare. Per la seduta, ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web tv. La pubblicità della seduta verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. La Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori. Ha la parola il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Grazie, buongiorno signor Presidente, buongiorno signori senatori e senatrici, signori onorevoli. Grazie di aver fissato questa audizione che mi dà l'opportunità di condividere con voi, così come abbiamo già fatto in altre occasioni durante questa legislatura e anche in altre sedi, gli interventi e le azioni che ha messo in campo il Governo in materia di lotta al lavoro sommerso, allo sfruttamento e più in generale tutti gli interventi fatti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Cercherò di farvi una relazione quanto più ampia possibile, compatibilmente ovviamente con i tempi a disposizione ma dandovi già anche la mia disponibilità a proseguire questa nostra interlocuzione, qualora ovviamente questo fosse richiesto e anche necessario seguito delle vostre richieste di approfondimento. Io credo che iniziare questo intervento debba ovviamente anche porre l'attenzione e soprattutto obbligarmi a riflettere certamente su ciò che è avvenuto recentemente, sui fatti di cronaca terribili, sulla morte di Sat Nam Singh, su tutte le situazioni in cui c'è uno sfruttamento del lavoro e soprattutto una non applicazione corretta di quelle che sono le norme in materia di lavoro ma ancora di più di salute e di sicurezza sui lavoratori. dicendo anche che ovviamente il nostro sforzo, il nostro intervento e la nostra azione deve essere rivolta a contrastare tutte quelle situazioni in cui ci sono delle azioni che vanno contro quella che è la dignità delle persone e soprattutto la dignità dei lavoratori che va assolutamente riaffermata. Noi abbiamo improntato il nostro lavoro come Ministero attraverso un'azione di confronto con le parti sociali, con i soggetti che hanno competenze in materia di salute e di sicurezza, in materia di lavoro. Il nostro obiettivo non è certamente quello di predisporre delle norme che non tengano conto di quelle che sono le evidenze oggettive e soprattutto quelle che sono ovviamente anche le strette necessità di effettuare delle azioni che siano efficaci sia dal punto di vista del contrasto ma ancora di più dal punto di vista della promozione, della corretta applicazione delle norme e soprattutto dell'adozione di misure efficaci. Quindi in questo voglio dire che certamente nel rapportarci a tutte quelle che sono le riflessioni che vi parterò, dobbiamo partire necessariamente anche dall'analisi dei dati perché sui dati poi ci si confronta e si esprimono anche delle posizioni differenti, soprattutto quando guardiamo ai dati delle denunce di infortunio con esito mortale. Premetto che certamente perdere anche solo una vita umana sul lavoro è un elemento che non qualifica un mercato di lavoro e un mondo del lavoro sicuro. Quindi non è certamente qui la mia intenzione quella di fare un ragionamento sui numeri che possa portare a dire che quei numeri poi non sono una indicazione o non ci danno delle indicazioni di lavoro. Comunque è anche giusto dire che invece per quanto riguarda l'aldamento infortunistico mortale nel 2023 noi abbiamo avuto un calo di denunce di infortunio con esito mortale. E se andiamo a vedere quanto questo poi incide in termini assoluti sulla platea dei soggetti assicurati noi vediamo che c'è una sensibile riduzione perché accanto a quelli che sono i dati del 2019 cioè il periodo prima della pandemia in cui abbiamo registrato 1.239 infortuni mortali con un'incidenza per milioni di occupati di 53,61. Nel 2023 invece abbiamo avuto 1.041 infortuni mortali. Poi voi sapete che i dati richiedono un assestamento che avviene nel corso del tempo e quindi prima di darli come dati definitivi ci vogliono molti mesi. Però sul 2023 abbiamo avuto 1.041 infortuni mortali con un'incidenza per milione di occupati di 44,15 con un mercato del lavoro e un mondo del lavoro che ha più di 500.000 occupati in più rispetto a quella che è la media degli anni precedenti. Dico questo per dirvi che tutto deve essere ovviamente contestualizzato e quindi anche rapportato a ciò che è poi il contesto in cui noi andiamo a operare. Come sapete noi abbiamo anche ampliato la platea dei soggetti assicurati perché con uno dei primi interventi che abbiamo fatto in occasione dell'approvazione del decreto 48 del 2023, il decreto 1 maggio, noi abbiamo inserito tra i soggetti che hanno la protezione assicurata dall'INAIL anche tutti i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il personale docente e non docente, ampliando quindi le ipotesi di copertura, le fattispecie di rischio che sono collegate al mondo della scuola. E stiamo vedendo anche un movimento o perlomeno un ampliamento dei numeri delle denunce di infortunio in ambito scolastico proprio per effetto di questa copertura. Poi abbiamo certamente anche attivato delle azioni che sono attività per potenziare quella che è la nostra capacità di contrasto ai fenomeni irregolari. Su questo io credo che sia importante anche rendere alle commissioni riunite una relazione che parta da lontano, che parta dal 22 di ottobre del 2022, quando si è insediato il governo Meloni. Perché vi dico questo? Perché credo che sia giusto dirvi anche che nell'intervenire per potenziare l'attività di vigilanza e quindi tutte le attività a contrasto del lavoro sommerso, del lavoro irregolare, noi abbiamo dovuto prima di tutto affrontare una situazione per cui io mi sono trovata a prendere in carico un personale ispettivo che era in agitazione, in sciopero, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Perché? Perché i passati governi non gli avevano riconosciuto la perequazione degli stipendi e quindi l'adeguamento del loro stipendio a quelli che erano gli scatti contrattuali che avevano tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione che godevano dello stesso contratto. Questo per effetto di una mancata correlazione e quindi un improprio collegamento tra quella che era la contrattazione collettiva nazionale di lavoro estesa al personale dell'ispettorato e il sistema di perequazione automatica. Vogliamo dire che il legislatore dell'epoca l'ha dimenticata? Probabilmente sì. E quindi abbiamo dovuto ovviamente per prima cosa, cosa che abbiamo fatto in parte nella legge di bilancio del 2023 e poi abbiamo completato con un secondo intervento, abbiamo dovuto allineare le posizioni perché certamente non è giusto mandare degli ispettori a fare delle ispezioni per verificare la corretta applicazione dei contratti quando i primi a non avere correttamente applicato un contratto sono loro. Questo è il quadro generale, quadro in cui comunque erano in corso anche delle attività di reclutamento che hanno portato alla predisposizione di graduatorie per l'assunzione di nuovi ispettori. Noi siamo intervenuti, come sapete, con il decreto PNRR bis per a questo punto utilizzare nuovamente le 466 assunzioni che non sono state fatte per effetto dello scorrimento delle graduatorie con dei risultati negativi in termini di, se vogliamo, adesione da parte o di risposta da parte delle persone che erano in graduatoria. Cioè abbiamo fatto lo scorrimento delle graduatorie, residuano 466 assunzioni che abbiamo riattivato col decreto PNRR bis, aggiungendo altri 250 ispettori più 50 carabinieri del nucleo tutela del lavoro. Ho sentito molte riflessioni su questi numeri, anche da parte di chi ha detto che 50 carabinieri non erano nulla. Su questo consentitemi invece di rassicurarvi, perché 50 carabinieri in più per noi sono tantissimo, visto che basta un carabiniere del nucleo tutela del lavoro insieme a un gruppo di 5 carabinieri della territoriale per poter fare un'attività ispettiva di qualità, soprattutto in settori complessi come quelli dove andiamo a ricercare sfruttamento del lavoro e caporalato. Questo per dirvi che recentemente avete sicuramente letto di un'attività ispettiva coordinata su tutto il territorio nazionale nell'ambito dell'agricoltura, in cui abbiamo schierato 1200 tra ispettori e carabinieri, quindi 600 ispettori e 600 carabinieri, 300 di questi erano carabinieri delle stazioni territoriali. Con questa attività abbiamo coperto quella che è stata in un'unica giornata la più grande operazione di controllo che abbiamo fatto nel settore dell'agricoltura e ovviamente altre sono programmate per i prossimi giorni, i prossimi mesi, di questo poco vi posso dire per evitare ovviamente di dare informazioni che potrebbero essere utili a chi deve, a chi vuole ovviamente scappare da quelle che sono le maglie dei controlli. Però questo è per dire che l'azione è sicuramente un'azione sinergica che ci ha portato anche con il decreto coesione a fare una scelta che anche questa è in controtendenza rispetto a quella che ha fatto il legislatore che ha istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro che è quello di sbloccare i ruoli e le assunzioni nei ruoli ispettivi dell'Inps e dell'Inail. Perché è stato fatto questo? Prima di tutto perché noi abbiamo bisogno di una sinergia stretta tra corpi ispettivi che porti anche a valorizzare quelle che sono le competenze che ogni corpo ispettivo ha. E nel momento in cui parliamo dell'Inail abbiamo ovviamente a che fare con ispettori che hanno una competenza specifica nella classificazione e nell'individuazione delle classi di rischio che è una cosa estremamente importante soprattutto quando si parla di sicurezza sul lavoro. Quindi per noi era importante non disperdere queste professionalità che invece essendo ruoli esaurimento per effetto anche delle uscite per pensionamenti stavano invece rischiando di non poter essere più trasmesse ad altro personale ispettivo. Nel momento in cui poi invece l'opera, quelle che erano le posizioni e anche se volete i presupposti su cui è nato l'Ispettorato del lavoro sono invece in questo caso, come dire, non vorrei definire falliti però il termine che mi viene è esattamente questo perché non si è riusciti ancora una volta per una questione legata alla differente classificazione inquadramento contrattuale delle forze ispettive non si è riusciti ad avere l'unico corpo ispettivo e quell'accorpamento che invece voleva il legislatore nel momento in cui ha creato l'Ispettorato. Allora per noi è importante invece avere un soggetto che fa coordinamento e che certamente ha un ruolo di gestione di quella che è l'azione complessiva e l'azione di indirizzo sul fronte dell'individuazione anche di quelle che sono le materie su cui ci si deve concentrare. Non sottraiamo all'Ispettorato del lavoro questa funzione di coordinamento e di indirizzo e di controllo complessivo di quelli che sono i numeri e le attività di vigilanza. Però con il decreto agricoltura che è stato recentemente convertito abbiamo fatto un ulteriore passaggio perché abbiamo in forza dello sblocco delle assunzioni per il personale ispettivo di IMS e INAIL anticipato il reclutamento di 514 unità ispettive, 403 di IMS e 111 di INAIL. È di un paio di giorni fa la notizia che l'INAIL ha bandito i concorsi per l'assunzione di funzionari tra cui ovviamente funzionari da destinare alle forze ispettive. Per quanto riguarda l'Ispettorato nazionale del lavoro entro la fine di luglio viene pubblicato il bando per l'assunzione dei nuovi ispettori. Bando che, memori di ciò che è avvenuto in passato e quindi del fatto che le graduatorie poi non hanno portato all'assunzione degli ispettori, abbiamo invece strutturato su base regionale in modo che il reclutamento sia fatto regione per regione e quindi ci sia una maggiore presa e un maggiore collegamento anche con il territorio. Questo per dirvi ciò che è stato fatto in materia di organizzazione della forza di controllo che ha un riscontro diretto in quelli che sono i numeri delle ispezioni. Nel 2022 sono state fatte 63.571 ispezioni, siamo saliti a 81.436 nel 2023, nel primo semestre del 2024 sono dati non assestati, l'Ispettorato del lavoro non ci ha potuto fornire i dati fino al 30 di giugno perché c'è tutto un lavoro di elaborazione, però siamo già a circa 63.000 ispezioni. Questo vuol dire che per effetto anche della conclusione dei corsi fatti dagli ispettori tecnici noi oggi schieriamo in campo una forza ispettiva che ci consente di avere una maggiore presa sul territorio e su quelli che sono i fenomeni che noi stiamo andando a contrastare e su cui ovviamente individuiamo tutta una serie di azioni e abbiamo individuato una serie di azioni per rendere più efficace la nostra attività. Cosa emerge dal quadro dell'azione ispettiva? Che aumentano le situazioni in cui troviamo lavoro nero, quindi lavoratori che non sono conosciuti agli archivi della pubblica amministrazione come lavoratori assunti da un'azienda, ma c'è ancora di più in aumento, in sensibilissimo aumento, la fattispecie del fenomeno interpositorio, quindi della somministrazione illecita e dell'appalto illecito di mano d'opera. Ecco perché noi siamo intervenuti ripenalizzando il reato di appalto illecito di lavoro. Perché abbiamo un indicatore che è quello che viene dalle evidenze ispettive che ci dice che quel reato depenalizzato ha prodotto delle conseguenze in termini di aumento dei numeri che sono legate anche al fatto che chi metteva in campo quella forma di adattamento, se vogliamo, di una esigenza a una fattispecie giuridica che veniva in qualche modo anche stressata o utilizzata impropriamente, correva un rischio di pagare una sanzione amministrativa che a quel punto diventava onere d'impresa, come dire rischio d'impresa, se lo vogliamo chiamare in questo termine. Però ecco, tutto questo ci porta a dire che noi abbiamo bisogno e abbiamo fatto delle azioni anche per migliorare la nostra capacità di lettura e di comprensione dei fenomeni attraverso anche la sinergia tra banche dati e soprattutto la sinergia nella lettura di dati, di lettura congiunta di dati in possesso di soggetti che hanno una stretta attinenza con il mondo del lavoro. Quindi sto parlando del fatto che abbiamo messo a disposizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, tutto quello che è contenuto nelle banche dati dell'Inps, ovviamente nel rispetto dei dati sulla privacy, ma quando c'è un'azione ispettiva in corso è evidente che quel termine poi si deve legare anche con quelle che sono le esigenze di verifica che vengono fatte, quindi in questo caso loro avranno la possibilità di accedere alle banche dati e poter in questo caso anche essere più immediati nella valutazione di tutte quelle che sono le azioni ispettive da fare. Però non ci siamo fermati lì. Il tema del caporalato è un tema importante e soprattutto quello che bisogna fare in termini di contrasto al caporalato comporta anche la necessità, anche qui, di fare un'azione che parta anche dalla lettura dei dati e dei fenomeni. Perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo ritenuto importante anticipare, rispetto a quello che era il percorso inserito all'interno del disegno di legge e lavoro che oggi all'esame della Commissione Lavoro della Camera, abbiamo anticipato nel decreto agricoltura il sistema informativo per la lotta al caporalato per mettere insieme tutti i soggetti che possono aiutarci e sostenerci in un'azione che deve essere sempre più programmata e attenta nell'essere incisiva con una condivisione appunto delle informazioni. E qui chiamiamo in causa certamente anche AGEA e mettiamo in sinergia anche quelle che sono le informazioni che ci vengono dal settore degli appalti. Anzi, abbiamo creato anche un banca dati degli appalti privati in agricoltura. Agricoltura che è un settore che è anche normativamente complesso perché è differente, la gestione dei singoli istituti è differente rispetto alla generalità degli altri settori perché tutto verte intorno alla giornata, alla stagionalità e soprattutto anche c'è un tema legato a alcune realtà come quelle delle imprese senza terra che gestiscono non appunto terra, non direttamente un'attività volta alla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma invece gestiscono appunto mano d'opera. Allora tutto questo ci servirà ancora di più per poter indirizzare un'azione ispettiva che dovrà anche avvalersi di tutti quegli strumenti che possono mettere a disposizione le forze dell'ordine per il monitoraggio e la mappatura dei terreni e delle singole colture perché è sulla base di questo che poi si possono fare le proiezioni per la gestione e l'individuazione di quelle situazioni in cui la mano d'opera non è regolarmente dichiarata. In questo credo di dovervi dire anche che si è insediato il commissario straordinario per gli insediamenti abusivi in agricoltura, è un tema ed è un percorso legato al piano nazionale di ripresa e resilienza e attiene a quelle che sono delle iniziative che servono per costruire delle soluzioni abitative che siano a disposizione appunto di coloro i quali oggi invece vivono all'interno di insediamenti abusivi. Anche su questo credo che sia importante chiarire quali sono le motivazioni che hanno portato alla scelta di nominare un commissario. Prima di tutto l'estrema complessità dell'intervento che è legato anche al, anzi e soprattutto, alla difficoltà di mappare e quindi di definire in termini molto chiari quelli che sono i numeri dei soggetti che hanno una, non posso dire una stabile residenza perché voi sapete perfettamente che invece, soprattutto per quanto riguarda le culture agricole, c'è uno spostamento ingente di persone legate ai flussi e soprattutto alle stagionalità. però ecco, vi dico che inizialmente i 37 comuni che avevano aderito al percorso avevano dichiarato di aver bisogno di più di 10.000 posizioni e quindi... Assolutamente sì, mi venivano ricordati i tempi, scusate. Però questo vi dico, allora erano oltre 10.000 posti e posti letto, diciamo, che venivano richiesti, salvo poi fare una ricognizione ed essere scesi a 2.700 e sulla base di un'interlocuzione intensa con il nostro ministero poi essersi invece attestati intorno ai 7.000 posti. Però ecco, proprio perché è giusto essere chiari, persone come Satnam Singh non erano all'interno di quella mappatura e non perché quando si parla di 37 comuni ovviamente si parla di attività che vengono svolte all'interno di enclave che sono ben note anche per le loro dimensioni, non hanno una struttura e una diffusione su tutto il territorio nazionale e certamente questi numeri non sono, come dire, collegati a quelli che potrebbero essere invece i numeri reali dei soggetti che non abbiamo, che non sono visibili perché non sono censiti che sono nelle campagne del nostro territorio. Allora ecco che abbiamo certamente molto da lavorare, la scelta del commissario è quella di dare a un commissario straordinario, in questo caso l'ex prefetto di Latina, tutti i poteri per poter intervenire in un coordinamento tra vari soggetti pubblici e varie competenze ministeriali estremamente difficile, complicato anche dato dalla condizione dei territori e dalla condizione in cui dovrà operare, condizione anche ambientale in cui dovrà operare. Bene, oltre a questo ci sono tante altre azioni che stiamo facendo, compreso l'implementazione della patente a crediti, è quasi pronto il decreto ministeriale, abbiamo fatto un ultimo incontro con le parti sociali e stiamo valutando le ultime proposte, le ultime richieste, suggerimenti che sono stati fatti, faremo un'altra riunione e poi concluderemo. Sapete che siamo intervenuti anche per potenziare gli investimenti dell'INA nel bilancio INA il 2024 a favore della prevenzione, della formazione e soprattutto dell'implementazione di misure di sicurezza importanti, così come abbiamo dato vita e stiamo lavorando sul SIN. Mi fermo qui e poi ovviamente sono a vostra disposizione, depositeremo una relazione anche con le tavole numeriche da cui potrete trarre i numeri esatti laddove io li ho dati per approssimazione. Bene, grazie Ministro. Lascerei la parola ai colleghi per un breve giro di domande. Segnalo che noi alle 9.30 abbiamo aula con voto immediato, per cui auspicherei che riusciamo a chiudere oggi, però se il Ministro ritiene, l'ha detto in apertura, potrebbe anche eventualmente tornare per rispondere magari più diffusamente. Però se chiudiamo oggi, cosa fatta? Capua, come si dice in gergo. Non so se il collega Rizzetto voleva aggiungere qualcosa. Bene, domande, Magni. Grazie, grazie Ministro, dell'informazione. Io dico subito che visto che la Ministra ha detto che lascerà... Scusa, il collega Magni è Presidente della Commissione. Bene, chiedo scusa a Tino, non ti avevo presentato adeguatamente. Non c'è bisogno, non c'ho... No, per i colleghi Camera, dicevo. Bene, prego. Tranquillo, tranquillo. Volevo dire che visto che lei ha detto che ci lascerà una nota scritta, vi chiedo subito che invece a differenza del mio Presidente della Commissione, vi dico che ce ne sarà necessità invece di ritornarci su questi temi. Quindi vi chiedo subito una disponibilità a ritornarsi, anche perché le cose dette sono tante e quindi non c'è dubbio che il tema è un tema complicato, cioè molto complicato, complesso, difficile e non di facile soluzione. Però, ad esempio, la cosa che posso sottolineo secondo me è questo dato. Lei ha elencato una serie di atti e anche di numeri, però in sostanza, sostanzialmente sul contrasto, cioè l'intervento di vigilanza, di potenziare ovviamente l'intervento di vigilanza. Io mi sono letto una relazione che c'è fatta dalla Commissione d'inchiesta a Camera sul caporalato del 2021, quindi non è dalle calende greche, cioè ed è durata diciamo un lavoro di tre anni e le conclusioni a cui arriva, ad esempio, quella relazione parte, ad esempio, dalla rete delle imprese, cioè perché questo mi pare il punto centrale, cioè partire dal dato di cos'è oggi l'agricoltura. Giustamente lei diceva ci sono aziende agricole senza terreno, quindi perché ci sono aziende agricole senza terreno? Poi chi determina, ad esempio, la grande distribuzione che determina, insomma, però parte da questo dato, quindi dal fatto e a me pare che dobbiamo partire da lì, ecco, questo per dire perché solo da lì si riscontra, ad esempio, il fatto che, non voglio, quante persone perché per poter, i pomodori vanno raccolti nel giro di X giorni, non è che, cioè ogni, diciamo, la verdura, la frutta, la raccolta ci sono, e quindi si sa la procedura, si sa il tipo di lavoro, si sa la dimensione e via dicendo. In questo caso si sa anche la domanda e quindi il controllo sul fatto del fabbisogno di mano d'opera, perché molto spesso dentro qui si annida, ad esempio, il lavoro nero, il sottopagato, e di conseguenza, finisco, se scioperassero i caporali, noi non mangeremmo, sulle nostre tavole non arriverebbe quello che noi vogliamo mangiare, se scioperassero i caporali, e mentre invece sono una cancrena del sistema. Ora, perché funziona questa cosa? Perché loro sono in grado di trasportare, sono in grado di rispondere all'esigenza dell'impresa, di quante persone hanno bisogno, tutte queste cose qui, e come lei diceva, anche sapere, poi se li mettono sotto una pianta o sotto una tenda, non una casa, perché di solito non gli danno una casa, è tutto gestito da loro. Ecco, quindi la cosa che io vorrei che magari ci ragionassimo, perché ci vuole tempo, non è quello di star qui, qui la soluzione non è che, almeno io non ce l'ho, ecco, per quanto mi riguarda non ce l'ho. Credo che però le cose che sto dicendo siano vere, anche supportate da queste cose, che sono, diciamo, la premessa anche a un contrasto pesante, perché se uno non è, si fa il contrasto pesante, se no il rischio è che noi facciamo un intervento, però il giorno dopo, perché non è possibile farlo tutti i giorni, continua lo stato di prima. E questo è il fatto. Finisco, l'ultima cosa, dovremmo anche stabilire un minimo, e qui non è una polemica, anche di retribuzione, non si può, cioè noi reggiamo un'agricoltura che si regge sul fatto che si pagano 3, 4, 5 euro l'ora alle persone in nero, anche questo è un problema serio, cioè serio, serissimo, questo è il dato. Quindi è necessario che in sostanza noi proviamo, insomma, ecco, a intervenire. Sto parlando dell'agricoltura in questo caso. Finito. Grazie, collega Magni. Mazzella. Grazie, grazie Presidente, grazie Ministra. Poche domande, molto sintetiche. Lei che cosa ne pensa per quanto riguarda la Procura Nazionale del Lavoro e per quanto riguarda anche l'omicidio sul lavoro? Abbiamo introdotto l'omicidio nautico, ma penso che l'omicidio sul lavoro tardi, diciamo, avvenire come riflessione nel Paese. I morti sono tanti e forse bisognerebbe fare una riflessione su questo tema. Secondo tema, le previsioni che lei fa, perché dalla commissione di cui faccio anche io parte, infortuni sul lavoro, abbiamo notato che esiste uno zoccolo duro da aggredire. Cioè, indipendentemente dal numero di morti che noi andiamo ad analizzare ogni anno, sembra che non si riesca a scendere oltre e che determinati settori, invece, siano più colpiti di altri, per esempio, all'edilizia piuttosto che altri settori. Quindi è chiaro che, penso che anche voi, al di là dell'analisi e della mappatura che state facendo, abbiate individuato dei settori specifici nei quali intervenire e vi siate dati degli obiettivi. Se, messo che oggi sappiamo, dai dati odierni, che ha aumentato l'incremento, cioè nel 2024 c'è un incremento dei morti sul lavoro, dobbiamo dirlo, lei ha dato i dati del 2023, ma c'è un incremento dei morti sul lavoro. Ma, premesso che sono dati relativi adesso, è chiaro che voi volete come Ministero, come tutti quanti noi, come italiani, ridurre questo numero. Vi siete dati un indirizzo, un obiettivo? Perché sembra che questa soglia, che ci piazza praticamente in una posizione intermedia in Europa, perché non è che siamo proprio gli ultimi, non siamo i primi, ma in una posizione intermedia non si riesca, diciamo, né a risalire né a scendere. Ci mantiene così dal 2015, quindi siamo in una posizione abbastanza di stallo. Quindi qualche intervento, ecco perché ho fatto le domande principali, Procura del Lavoro nazionale, un vicino sul lavoro. Qualche intervento, tra virgolette, shock? C'è bisogno di qualche intervento shock, secondo lei, oltre a quelli che già ha annunciato? E soprattutto quali obiettivi vi siete dati? Grazie. Collega Camus. Azzella, chiudere. Grazie, grazie Presidente, grazie Ministra. Ministra, credo che lei sappia che in varie occasioni abbiamo avuto obiezioni rispetto al lavoro fatto, però una cosa io credo che vada riconosciuta, ed è quella che il Governo si è posto il tema di riproporre l'interposizione illecita. che, come dire, illotempore, perché ormai è passato molto tempo, era stata, come dire, tolta, a mio avviso già allora, commettendo un errore, ma immaginando, come dire, che l'intermediazione sulla manodopera potesse essere tutta compiuta, tranne agenzie ufficiali, e questo avrebbe, come dire, risolto il problema. In verità abbiamo scoperto che non è così. Ci sono due fenomeni, uno è quello del caporalato di cui stiamo discutendo oggi, un altro è quello delle forme più o meno cooperative, spurie, illecite, chiamiamole come vogliamo. Sono tutti e due capitoli che portano da un lato a lavoro sommerso, sfruttato e sottopagato, dall'altro sono anche uno degli elementi su cui bisognerebbe indagare, perché sempre più spesso i fortuni sul lavoro corrispondono ad appalti più o meno determinati nelle loro modalità, quindi hanno un doppio effetto, da un lato lavoro sommerso, dall'altro violazione della sicurezza. Allora, io credo che una delle cose che bisognerebbe fare è andare avanti su questo tema dell'interposizione, cioè il passo fatto è sicuramente importante, non è sufficiente. Non è sufficiente e soprattutto non ha rappresentato, forse anche dal punto di vista comunicativo, una così esplicita variazione, un elemento di notorietà. Questo vale anche in particolare per l'agricoltura, per le ragioni che in parte già diceva il collega Magni, l'agricoltura è fatta di tempi brevissimi per certi periodi e di tempi molto più, come dire, laschi. In altri inizia la stagione della raccolta, si corre dietro un percorso, la preparazione diciamo invernale e la semina sono tempi assolutamente diversi. Sono diversi a seconda delle regioni, sono diverse le trasmigrazioni, da coltivazione a coltivazione, queste sono indubbiamente cose che determinano delle difficoltà, però bisognerebbe capire come noi contrastiamo l'esistenza dei caporali, oltre che sul piano dell'azione delle forze dell'ordine, come dire, laddove ci sono reati c'è ovviamente un tema che è l'intervento della magistratura. Ma qual è la struttura che costruiamo perché non si debba percorrere quella strada? Allora, PNRR ci dice, ci sono risorse, avete nominato il commissario straordinario, per costruire le soluzioni abitative, c'è un problema di costruire le soluzioni di trasporto, perché sono strettamente connesse, ma c'è un terzo problema che è quello che io chiamo togliere l'alibi alle imprese, perché le imprese che cosa dicono ogni volta? C'è un problema di trasporto, c'è un problema abitativo e poi c'è il problema che noi non li conosciamo e quindi il caporale diventa il modo di... Siccome l'agricoltura è ampiamente trasformata, ma per tanti versi ancora antica, il nostro paese ha una storia di elenchi comunali, per esempio, di messe a disponibilità, cioè bisognerebbe ricominciare ad avere l'idea di uno strumento che nel territorio tolga questo alibi, perché in gran parte è un alibi, perché dico che in gran parte è un alibi? Dico che in gran parte è un alibi perché basta pigliare, come dire, una situazione di latina e sapere che le comunità sono le prime fornitrici, in realtà. Il problema è che passa attraverso il caporale e il controllo delle comunità, invece che attraverso un luogo pubblico in cui tu puoi selezionare. Questo determina anche un'altra conseguenza. Anche qui veniva detto, come facciamo ad applicare i contratti in agricoltura se non interveniamo sulle modalità dell'assunzione? Perché i contratti agricoli non hanno le cifre che poi scopriamo, non sono i più ricchi dei settori produttivi, ma sono i contratti ovviamente dignitosi. Se non ho uno strumento di governo del collocamento, non ho neanche uno strumento di governo dell'applicazione dei contratti. E anche, come dire, lo stesso lavoro ispettivo può verificare l'assunzione, ma fa fatica poi a verificare se sono effettivamente. Allora, io credo e chiudo, perché poi c'è tutto un capitolo che andrebbe affrontato, che si chiama Flussi Migratori, Flussi Stagionali e Bossi Fini, perché questi sono assolutamente legati, credo però che bisognerebbe, da questo punto di vista, proporsi non norme che man mano vengono, ma un ragionamento compiuto che da un lato applichi la normativa che c'è e dall'altro la integri per i pezzi che mancano. Grazie, collega Camusso. Murelli. Grazie Presidente, ringrazio la Ministra Calderone per gli interventi e tutte le azioni che stanno mettendo in atto sul problema dell'assicurazione sul lavoro e sul caporalato. Sarò contenta di ricevere la relazione e di leggerla in dettaglio. Però volevo solo porle una domanda, perché lei ha parlato di appalto illecito di mano d'opera, quindi le chiedo che cosa si sta facendo per quanto riguarda, per contrastare, le situazioni di abuso, di utilizzo di contratti all'interno dei diversi settori. Mi riferisco al fatto, per esempio, che molto spesso viene utilizzato anche il contratto multiservizi, contratto collettivo nazionale sicuramente, però viene utilizzato molto spesso abusandone, perché viene utilizzato in settori come per esempio edili, quando invece non è il contratto adeguato per certi tipi di mansioni. Non solo questo, questo è solo un esempio delle tante situazioni in cui vengono utilizzati i contratti regolari, ma non adeguati al lavoro che una persona deve svolgere. Grazie. Grazie. Collega Barzotti. Grazie Presidente, ringrazio la Ministra per la sua informativa, nelle sue comunicazioni, rispetto a un tema che ci occupa praticamente quotidianamente e che occupa purtroppo anche le cronache dei nostri telegiornali e in particolare colpisce la vita delle persone che lavorano in questo Paese. Ora, Ministra, lei ci ha dato dei dati sugli infortuni, i dati del 2023, leggeremo le memorie, insomma andremo poi in analitica di questi dati. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo quelli provvisori del 2024 e che ci dicono che gli aumenti degli infortuni ci sono, perché abbiamo un più 2,1% e un più 24% di malattie professionali. Quindi, in ogni caso, non riusciamo a schiodarci da questo dato che si attesta attorno ai mille morti l'anno. Per cui, insomma, diciamo che quello che noi proponiamo, sempre nel modo più costruttivo possibile, è quello di valutare un piano straordinario di prevenzione in materia di salute e sicurezza, non solo in materia di sicurezza, perché il tema della salute è centrale, perché poi rimanda a un tema culturale, cioè di come devono lavorare le persone e la qualità del lavoro, perché poi parte tutto da qui. Io mi chiedo, Ministra, cosa ne pensa lei di questo? Cosa ne pensa del fatto che c'è l'8% dei lavoratori dipendenti in povertà assoluta e che i poveri hanno raggiunto il loro record storico a seguito delle misure introdotte da questo Governo? Le chiedo ancora qualche informazione rispetto al tavolo sul caporalato, che mi risulta essere stato convocato soltanto una volta da quando si è insediato questo Governo. Le chiedo dei 200 milioni PNRR che non sono ancora stati utilizzati rispetto ai ghetti, quindi alla possibilità di togliere le persone che lavorano nei campi, quindi i braccianti all'interno dei ghetti. Rispetto a questi ritardi, questa settimana, in particolare lunedì, siamo andati in provincia di Foggia, a Borgo Mezzanone, e in provincia di Cerignola, a Torretta Antonacci, e ci sono stati riferiti di ulteriori ritardi, di un ritardo nella sottoscrizione del protocollo per l'utilizzo di fondi proprio in materia di ghetti, questo in prefettura, durante un incontro assolutamente ufficiale, e anche difficoltà, diciamo, degli amministratori di portare a termine anche i piani PNRR in materia proprio di soluzioni abitative per i braccianti date dai tempi, insomma, ristretti, quindi ci hanno chiesto, insomma, di sensibilizzare sul fatto di attenzionare queste realtà dove gli insediamenti abusivi sono da tantissimi anni presenti, e quindi molte difficoltà nel cercare di trovare delle soluzioni, quindi una maggiore presenza del governo rispetto a questo. Le chiedo poi ancora un paio di domande, se non pensa che sia il caso di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, è una procura nazionale proprio per accelerare i procedimenti in materia di morti sul lavoro, in modo che i procedimenti in questo senso non vengano prescritti prima di portare a delle soluzioni, e perché non vada a destendere la patente a punti a tutti i settori, così come il Durche di Congruità, che è già presente in edilizia. Grazie. Grazie. Mancini, collega Mancini. Grazie, grazie Ministro. Immagino che la comunicazione sarebbe stata molto più ampia, e quindi attendiamo veramente di poter leggere tutto, perché il lavoro di questi mesi è stato molto molto intenso. Ci si è soffermati molto sulla parte proprio di contrasto, e quindi di verifica. Io invece vorrei che Varesse facessimo un focus su il potenziamento e la sua volontà, e la volontà quindi del Ministero del Lavoro, di investire proprio in promozione, in sicurezza. E visto che lei ha iniziato la comunicazione parlando di quanto era stato introdotto col DL lavoro in materia di scuole, ecco come vogliamo proseguire, visto che da lì poi noi dobbiamo iniziare, partiamo proprio dalla formazione e quindi dalla sicurezza, sicurezza, quindi abbiamo pensato di assicurare all'unni studenti e poi di potenziare la formazione all'interno della scuola, questi investimenti importanti che poi sono proprio deutici ad evitare proprio che vi sia questo continuo, con questi continui morti, questi continui infortuni. Grazie. Collega Furlan, grazie. Ecco, grazie signora Ministra, credo sia importante oggi aprire questo confronto con lei, questa informativa, che spero anche prosegua, perché i tempi sono assolutamente inadeguati rispetto all'affrontare insieme un tema così complesso, quindi io mi limiterò soltanto alcuni aspetti, alcune considerazioni. Io credo che in modo particolare, parlando di caporalato, sia assolutamente indispensabile guardare a questo che è una vergogna del nostro Paese, una cosa insopportabile per gli italiani e le italiane, dal punto di vista ovviamente della legislazione sul lavoro, ma non solo. Cioè non riusciamo, io ritengo, ad aggredire un tema così drammatico soltanto guardando dal punto di vista della legislazione del lavoro. C'è bisogno invece di interventi plurimi che in parte riguardano ovviamente anche il suo Ministero, ma non solo quello. La prima questione è come i tanti regolari che abbiamo nel nostro Paese, in agricoltura, se ne stimano circa 250.000 solo per quel settore ed è sicuramente un dato sottostimato, o riusciamo a farli emergere dall'irregolarità oppure saranno assolutamente ostaggio di quello che noi chiamiamo caporalato ma che si sta ormai traducendo in vere forme di schiavismo inimmaginabili nel nostro Paese. Poi noi vediamo l'aspetto eclatante quando c'è la morte del lavoratore, ma gli aspetti che magari non arrivano alla morte, ma schiavitù vera e propria, sono all'ordine del giorno. Allora, io mi chiedo se lei condivide oppure no, che probabilmente sia arrivato il momento di rivedere la Bosse Fini. D'altra parte, è una legge talmente in là, nel tempo, in una condizione assolutamente diversa che rivederla non è una vergogna, significa riaggiornare anche questi ragionamenti dopo 25-30 anni, no, in una condizione molto diversa. La seconda questione è che copertura si può garantire a quei lavoratori che denunciano il caporalato. Quando scade il permesso di soggiorno diventano tutti irregolari. Allora, quali garanzie si possono dare ai lavoratori e alle lavoratrici, tante donne anche, che denunciano il caporalato? Perché se non siamo in grado di dare questo tipo di sicurezza, di certezza, la condizione non cambierà e continueremo a avere questa situazione così in evoluzione sempre peggio, sempre più drammatica, sempre più diffusa e sempre più cruenta, in modo particolare in alcune zone del paese. Per la verità, dal nord al sud, nessuna esente da un peccato così grave. l'altra questione su cui volevo ascoltare la sua opinione è come noi incentiviamo in modo molto più sostanzioso le imprese agricole a diventare imprese che entrano nella rete di lavoro di qualità. Perché o c'è una differenza che sia tangibile tra chi entra in questo circuito virtuoso e chi invece fa un'altra scelta oppure continueremo a rilevare come i dati di adesione sono assolutamente irrisori ed insufficienti. allora da una parte un'impresa che non è regolare deve uscire in modo netto e chiaro da ogni tipo di agevolazione e da ogni tipo di contributo dall'altro un'impresa virtuosa deve avere vantaggi rispetto a questo stato pensa ad esempio che imprese non virtuose che non si iscrivono che non vogliono essere mappate e non vogliono aderire ad un processo appunto virtuoso delle imprese intanto non dovrebbero più accedere ai concorsi pubblici tanto per cominciare l'ultima domanda perché il tempo è quello che è è cosa ne pensa di questa proposta io credo importante del DURC anche in agricoltura esattamente come l'abbiamo in edilizia e cosa ne pensa del ruolo importante che gli enti bilaterali possono avere anche nei processi a cui oggi sono esclusi in modo particolare per l'emersione per la regolarizzazione ma anche per l'incontro domanda offerta di lavoro possono essere veicoli assolutamente importanti e virtuosi di una situazione che va con forza corretta grazie grazie collega furland purtroppo abbiamo la senato che incombe con i voti dall'inizio pertanto colleghi ricalinderizzeremo insieme al collega Rizzetto e al ministro ovviamente il materiale che il ministro lascia è a disposizione buon lavoro buona giornata alla prossima occasione